Ciao a tutti ragazzi, sono vero al 91. Allora, è venuta Monica e mi ha rovinato il video. Io sto facendo un video però mi ha detto scusa, non lo sapeva. Quelli rotti tipo questi, questi, salvo il gancio, il gancino e il butto che vuol dire che sono così rovinati. Questi sono stavecchi, le rotte le butterò raga, quindi tranquilli, non li butterò via pochi. Le butterò via pochi raga, speriamo. Questi qua sono quelli bubù nuovi, quelli nuovi no, quelli vecchi li dovrò per forza. Buttare, perché sono rotti, se si rompono, vuol dire che sono vecchi, se si rompono, sono vecchi, vanno buttati. Cosa te ne fai? Dei braccialetti tutti rotti, rovinati. Però, sì, salverò il gancetto, ovviamente, che dovrò buttare perché sono rotti. Però, vedi, questi per esempio reggono, perché questi sono quelli nuovi, sono nuovi di pacca. Vedi, però, questi sono un po' più diversi, sono nuovi e non sono rotti. Mentre quelli vecchi e brutti e rotti, rovinati, ovvio, dovrò buttarli via perché sono rotti, sono rovinati. Dovrò buttare via, ma chi se ne frega, tanto ne ho fatti altri, ne farò altri, poi a mano a mano che si seccheranno, diventeranno... Beh, chi li butterò, vedi? Per esempio, questa li butterò perché, vedi? Sì, sono proprio rotti. No, vedi, sono tutti... Tanto, prima o poi si spaccano, raga. Questi sono nuovi. Vedi, questi sono nuovi e reggono. Qualcuno rovinato, lo butto lo stesso anche se gli altri, raga, non sono rovinati. Capito? Questi li posso tenere perché non sono rovinati. Ma io ho quelli da molto più tempo, che sono rovinati, che io devo prendere la decisione di... Ehm, buttarne via, buttarne via un bel po' perché tanto sono un bel po'. Questi sono un bel annosco... No, questi sono completamente vecchi, vedi? Li dovrò buttare. Qualcuno li dovrò buttare, qualcuno no. Anche se c'è anche tipo un'area cellazione, un po' rotto. Vedi, questi si spaccano come non niente. Li dovrò buttare. Quindi ne butterò un bel po', raga. Ne butterò via un bel po', guarda. Sono tutti rovinati e si vedono. Io lo vedo quando sono rotti, rovinati. Vanno buttati. Si vedono, basta che tu lo tiri e si vedono. Questa ancora, ancora no. Faccio qualcuno già rotti, raga. Se lo muovi. Qualcuno è rotto, tipo questo. È proprio... È rotto perché vuol dire che è lacerato, vedi? Li butto. Quindi i rotti li butto, che vuol dire che sono proprio arrivati al limite. Nero, no? Quelli rotti sono proprio arrivati al limite della proprio limite. Questi sono proprio arrivati al limite perché tanto gli elastici si rompono. Quindi io ho un pochino, quindi io ho un pochino di loro, butta. Si buttano perché non sono... Vedi, questo è lacerato e quindi lo butto. Anche se è sano, qualcuno è lacerato. Lo butto, questo è rotto, lo butto. Quelli rotti li butto tanto perché sono veramente... Questi no. Qualcuno sono nuovi, qualcuno sono vecchi, qualcuno sono rotti, qualcuno sono rovinati. Allora, già un po' quindi sono già a buttare, eh? Già un po'. Questo è un altro... Questo è un altro... Che non va buttato, però c'è qualcuno che vanno buttati perché sono veramente... Da buttare, eh? No, questi no. Non ancora. Eh, così faccio anche un pulistum degli elastici. Sono questi due. Faccio anche un pulistum degli elastici, raga. Io devo arrivare a 11. Poi arriverà il quarto hall. Anche da adesso sto anche guardando. Che si sta a buttare, raga? Sì. Ragazzi, devo fare proprio questo lavoro perché qualcuno sono rotti e devo buttarli praticamente. Dovrò buttare, no? No? Ma è normale, eh? Perché è normale. Io recupero il tè. No, io recupero l'uncinetto. No. No, io recupero la chiusurina. Pagliato. Perché è normale. Perché sono usati. Io sono vecchi e logicamente. Questo no, vedi? Questo no. Questo sì. Sto vedendo quelli lacerati, raga. No. Quelli lacerati ricupero la chiusura. Li rifaccio, hai capito? Li rifaccio il gioco. Ecco perché voglio fare il video. Perché se poi io questi braccialetti, per esempio, non ne ho più. Perché sono rotti. Almeno ho il video che lo conferma che ce li ho. Questo va bene. Vedi? Non è proprio rotto. No. Qualcuno mi ha buttato. Ma io poi devo fare il video. Perché se poi... Au. Questi sono... Mi sono... Mi sono rotto dentro. Capito, raga. Se poi dopo non ne ho più, raga. Perché non ne ho più. Oglia. Video. Testato. Per farlo vedere anche quelli che io butto. Perché sono vecchi, eh. Guarda. Questo è tutto lacerato. Mamma mia. Qualcuno lo butto. Qualcuno me li tengo. Perché questo lavoro va fatto, raga. Sennò poi... Ho tutta la monnezza. Quelli dell'anno scorso... Ancora, ancora... Gli avevo. Poi vediamo. A me, ragazzi, se si rompono qualcuno butto via, hai capito? Oltremmeno ho il vantaggio di avere più spazio. E poi, ragazzi... Bello. Forse no. Vedi, qualcuno è un po' più rotto. Anzi, forse è un vantaggio. Si sono spaccati. Quelli a poco a poco che sono rovinati il getto. Perché questi li butto. Perché sono tutti... Rotti. Strausati. No. Perché basta che tu poi gli intrecci. Non risolve niente, raga. Non so quante parti. Ragazzi, sarà... Ce n'è ancora piena la borsa. Così saranno nuovi. Perché questi saranno i nuovi che ho fatto. Difatti... Quelli lacerati non ne ho. Vedi, così non sono lacerati. Non è un frigo. Questo è il butto. Perché non sono buono a sentire il caso. Questo... E' tutto rotto. Però mi piace tenerlo. Perché me l'ha fatto Monica. Poi... Qualcuno si salva. Qualcuno si salva, qualcuno no, raga, eh. Non è che si salvano tutti. Eh, questo ancora no. Sì, questo va bene. Proprio quelli che si lacerano. Vanno completamente... Vedi? No, adesso tu non li vedi, ma io li vi do occhio nudo. Proprio si lacerano. Dovrò togliere le chiusure. Che almeno le chiusure, almeno le salvo, raga. Perché... Perché servono, perché li ho ancora... Poco, ma li ho. Poi dirò alla mamma di non... Comprarmi di più. Perché non... Non dovrà più comprarmeli. Farò gli elastici. Allora... Aspetta che... Era questo. 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 E questo. E sto guardando se sono lacerati, raga, sì, così. E questo. Non farò vedere il video che cosa butto. Ma più o meno... Li ho... Li ho... Li sto buttando via... Abbastanza, raga. Però sono contenta. Perché così... Rigenero un altro elastici. Farò altri elastici che poi si rovineranno. Ma... No, guardate. Ma questo lo sto. Fai così e ti vedi che sono lacerati. Fai così e ti vedi che sono lacerati. Noi, come sempre, ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao! Ciao!